Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che come avrete sicuramente letto dal titolo è un video sui prodotti terminati del periodo me l'avete richiesto in tantissimi e quindi vi ho accontentate, mi avete richiesto sia questo che quello dei prodotti preferiti del periodo che arriverà presto, ve lo prometto arriverà presto, mi ci sto impegnando con tutta me stessa per trovare non centinaia ma almeno 10 prodotti preferiti del periodo quindi non vi preoccupate che presto avrete anche quello prima di iniziare il video voglio dirvi che se volete invece che vi riproduca questo look che mi vedete indossare oggi in un get ready with me vintage anche questo, commentate qui sotto scrivendomi si vintage, mi raccomando eh e ovviamente anche tanti like se volete che continui a fare questa tipologia di video, ovvero i video dei prodotti terminati allora ho posizionato tutti i prodotti di fronte a me, ve li ho divisi in categorie partirò prima con la categoria corpo, poi passerò alla categoria capelli, viso e per finire il make up perché udite udite ho anche terminato dei prodotti make up, ebbene si e appunto per questo sta piovendo a dirotto di fuori grazie iniziamo subito con il prodotto beauty, con i prodotti beauty scusate e vi vado a far vedere subito due bagnoschiuma che sono questi qui, allora questo è della Vidal, me l'avete visto penso nei, sì ne che credi nei video precedenti mi avrete sicuramente visto parlare di questo prodotto che è della Vidal è un bagno tonificante mora e muschio da 500 ml che trovo spesso in offerta all'acqua e sapone e mi piace tantissimo il sapore, infatti è quello che prendo maggiormente quelli i bagnoschiumi al sapore di mora, li prendo sempre più spesso rispetto ad altri sapori scusate ma oggi mi sento un po' dislessica e non riesco a parlare quindi mi impappinerò parecchio quindi niente questo qui è quello della Vidal e poi invece della Dermomed che non li avevo mai provati che sono questi bagnoschiumi qua, anche questi qui da 500 ml ho voluto provare questi qui che è della linea i freschi shakerati e questo è al cocco e ghiaccio e cocco e l'ho utilizzato d'estate devo dire che effettivamente è molto molto rinfrescante questo lo ricomprerò sicuramente per l'estate per l'inverno un po' meno perché effettivamente è un po' troppo fresco dà un'idea troppo di freschezza per l'inverno io poi so freddolosa figuriamoci però ecco ho terminato questi due per ora queste due sono le due marche di bagnoschiuma che preferisco la Vidal da sempre e questo qua della Dermomed l'ho scoperto da poco e mi sta piacendo anche questo quindi bagnoschiuma finiti altro prodotto per la cura del corpo che mi è piaciuto tantissimo che ho utilizzato e che sicuramente riandrò ad acquistare è questo qui, è dei provenzali ed è l'olio di cocco vegetale per il corpo in realtà è un olio secco vegetale per il corpo al profumo di cocco specifichiamo non è un olio di cocco questa è la confezione esterna ve l'ho voluta far vedere l'ho tenuta per farvela vedere perché la confezione interna è fatta in questo modo questa è la confezione interna vedete che è tutta sozzissima di capelli perché io li tengo nella doccia e una volta che ho finito di lavarmi ancora con il corpo bagnato mi spargo l'olio in maniera tale che questo penetri insieme all'acqua e poi mi asciugo sto tipo un minuto, due minuti con l'olio che diciamo penetra insieme all'acqua all'interno del corpo e poi mi vado ad asciugare con l'accappatoio e devo dire che è un metodo a mio avviso comodo e veloce per idratare la pelle del corpo quando non si ha tempo di mettersi lì a spalmarsi creme o comunque burri corpo utilizzare l'olio una volta terminata la doccia quando ancora la pelle è bagnata è molto molto utile molto geniale e soprattutto risparmiate molto tempo questo è una confezione da 150 ml e ce ne sono anche di altri sapori io però ho voluto prendere questo al cocco ed effettivamente mi è molto molto piaciuto l'odore è veramente buono e soprattutto vi dura tantissimo cioè a me è durato veramente tanto 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 quindi non vi fate ammagliare dal fatto che la boccettina è piccola perché ne serve veramente poco soprattutto se utilizzate il metodo che utilizzo io quindi questo qui anche mi è molto molto piaciuto e lo andrò sicuramente a ricomprare prodotto per il corpo che avevo messo lì praticamente da secoli e che non mi era piaciuto un granché infatti non è che l'ho utilizzato tantissimo anzi sono andata a comprare presente l'equivalente ma di un'altra marca molto molto più buona è questo qui della Vette sono le strisce depilatorie per i baffetti io queste strisce depilatorie che sono praticamente per il viso e sono al burro di carité e frutti di bosco praticamente non mi sono piaciute perché mi hanno sempre sempre fatto venire le bollicine sopra cioè è come se mi bruciassero la zona sopra delle labbra e quindi praticamente mi venivano oltre alle bollicine delle scoriazioni mi si levavano i pezzi di pelle insomma una vera e propria bruciatura e questo non mi è piaciuto assolutamente e infatti dentro ce ne sono ancora un po' ma non l'utilizzerò assolutamente non mi piace soprattutto nella zona delle labbra io evito, evito, evito di andare a mettere cose che possono farmi male veramente cioè soprattutto per le labbra e per gli occhi sono molto maniacale quindi questi assolutamente no non le comprate vi ho fatto vedere le strisce depilatorie che utilizzo invece adesso che mi piacciono tantissimo mi pare che sono della natura verde o comunque sono delle strisce depilatorie non di marche che si conoscono particolarmente però queste appunto no bocciatissime altri due prodotti per il corpo che non mi sono piaciuti assolutamente perché a me fanno puzzare in una maniera incredibile ma cioè una cosa obrobriosa sono questi due sono due detoranti allora uno è della Licia ed è il Deo Nature e quest'altro invece è della Nier preso all'Eurospin Deo Stick Neutro alcol free antitraspirante addolcente allora questo un pochino l'ho utilizzato ma vi devo dire la sincera verità a me fa puzzare tantissimo infatti dopo un po' non l'ho più usato perché era una cosa improponibile cioè io me lo mettevo e puzzavo più di prima a sto punto era meglio non mette niente questo all'inizio mi era piaciuto il problema di questo oltre al fatto che non è assolutamente antitraspirante quindi anzi a me faceva sudare pure di più ho voluto provare il roll il roll fatto in questo modo ho voluto provare il roll fatto in questo modo ma sinceramente o sono io che non sono adatta a questa tipologia di di deodoranti è pure troppo 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 cioè no 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 assolutamente no questo perché proprio cioè lasciamo perdere questo oltre al fatto che antitraspirante che non è antitraspirante ma poi c'ha un odore troppo forte quindi assolutamente bocciati entrambi adesso ho trovato finalmente il deodorante della vita che è lo costissimo perché è dell'eurospin ed è un boccione immenso che ancora non mi è terminato quindi ve ne parlerò nei prossimi video semmai lo metto nel nel video dei prodotti preferiti mi sa di sì questi invece sono bocciatissimi non li comprate altro prodotto per il corpo è quest'acqua profumata presa da Avon 2-3 anni fa da 100 ml la boccetta il sunshine kiss molto molto buono mi dispiace di è un profumo molto floreale però non è di quelli troppo forti è un profumo floreale molto buono e soprattutto buono per l'estate infatti questo qui era di una collezione praticamente estiva e io utilizzo più le acque profumate dei profumi perché sono allergica praticamente al 90% dei profumi per cui devo utilizzare le acque profumate e soprattutto se utilizzo i profumi devo spruzzarli sui vestiti quindi tendo ad utilizzare meno il profumo perché spruzzato sui vestiti possono anche macchiare i vestiti e cerco di utilizzare maggiormente le acque profumate questa è la prima di una lunga serie di acque profumate che ho comprato che ho terminato e mi è piaciuto veramente tanto floreale se lo trovate nei cataloghi Avon prendetelo perché è veramente veramente buono soprattutto per l'estate è molto fresco come profumo e non è nauseante quindi sì questo va bene passiamo adesso ai capelli per i capelli invece voglio parlarvi di questo allora questo qui che ho terminato è lo shampoo ultra dolce per bambine questo qui è lo shampoo 2 in 1 ciliegia e mandorla dolce districa dolcemente massima morbidezza e va bene è della linea praticamente bambine e vi devo dire la verità l'ho utilizzato anche io non l'ho utilizzato solamente sui bimbi e fa il suo il suo lavoro mi è piaciuto tantissimo purtroppo il packaging è particolarmente fragile quindi bisogna starci anche un pochino attenti però l'odore è fantastico vi lascia un odore di ciliegia sui capelli che vi dura 5-6 giorni è una cosa assurda quindi buono 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 è un comunque è un buon districa veramente i capelli è un buon shampoo e niente questo qui è una vita che io lo compro quindi non sto qui a parlarvene più di tanto perché probabilmente già l'avrete visto in altri miei video però insomma ci è piaciuto ci è piaciuto a tutti 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 grande ritorno tra i prodotti finiti il balsamo della splendor questo qui ha i fiori di mandorlo e carité perché grande ritorno perché praticamente è uno di quei prodotti che non moriranno mai qui su youtube se ne parla in continuazione almeno se ne parlava in continuazione un po' di tempo fa è un prodotto evergreen cioè un prodotto che hanno provato tutti chi per un motivo chi per un altro ed è un prodotto che tutti amano sia per la qualità che per il prezzo che ha perché è veramente low cost quindi se ancora non l'avete provato ma penso che l'avranno provato un po' tutti se non l'avete ancora provato andaterlo a provare meglio questo qua a mio parere meglio questo qui che quello al cocco che è stato quello più sputtanato se così si può dire qui su youtube da sempre invece questo qui è comparso dopo ma devo dire la verità preferisco questo perché ammorbidisce molto di più il capello rispetto a quello al cocco che ha il tappo giallo quindi niente non ve ne sto qui a parlare più tanto perché lo conoscete tutte altro prodotto per i capelli è questa qui è la crema rigenerante della mil mil all'olio di cocco allora questo qui è una maschera diciamo è una maschera l'ho finita l'ho praticamente si può dire che l'ho anche leccata pur di finirla e devo dire la verità non è il tipo di maschera che è funzionale al 100% sui miei capelli è una maschera che a me è piaciuta è una maschera decisamente con un rapporto qualità prezzo e soprattutto quantità perché questa qua è una confezione da 500 ml soprattutto per chi ha i capelli lunghi secondo me è molto funzionale per chi ha i capelli corti come me che adesso me li sono tagliati probabilmente diventano più funzionali le maschere quelle della Garnier dell'ultra dolce anche dell'ultra dolce mi pare sì comunque della Garnier quelle nella confezione da 200 ml o 250 questa l'ho presa in funzione dei miei capelli lunghi che avevo prima d'estate e devo dire che ha funzionato però però non al 100% diciamo che preferisco e ritornerò sicuramente alle maschere della Garnier questa è stata una parentesi durata quest'estate perché avevo appunto i capelli più lunghi e mi serviva più quantità di prodotto perché oltre ad averli più lunghi io ne ho proprio tanti di capelli quindi mi serviva tanta quantità di prodotto e se utilizzavo con i capelli lunghi che avevo in quei mesi il barattolino piccolo della Garnier mi durava due lavaggi di capelli invece con questo barattolone qua da 500 ml ci ho fatto praticamente tutta l'estate quindi mi è piaciuto per la questione quantità per i capelli lunghi ma decisamente non arriva al 100% al top delle maschere della Garnier però non è male cioè rispetto ad altre maschere è decisamente consigliata questa qui sopra a questa qui ci stanno quelle della Garnier quindi va bene questa qui ci è piaciuta ci è piaciuta ultimo prodotto per i capelli intanto vedo che sta andando via la luce spero di riuscire a finire di registrare tutto quanto se mi vedete piano piano scomparire è solamente perché sta andando via la luce spero di riuscire a forse così vedi spero di riuscire a finire di registrare tutto quanto ultimo prodotto per i capelli sono questi sono le gocce di luce della Niar preso all'Eurospin alla cheratina e olio di lino questo qui è una boccetta da 100 ml è in vetro quindi state attenti perché la prima volta che l'ho comprato neanche sono arrivata a casa Samuele è praticamente caduto in terra e si è frantumata la boccetta con tutto l'olio che è praticamente andato sul pavimento non vi dico quindi occhio a come lo maneggiate perché è di vetro e però vi devo dire che è un ottimo prodotto se vi capita di passare all'Eurospin e di voler provare un prodotto per capelli prendete questo c'è anche l'altro che lo sto utilizzando adesso e sinceramente non vedo nessuna differenza che mi pare sia all'olio d'argan ma non vedo nessuna differenza probabilmente l'unica differenza è l'odore probabilmente è quella diciamo l'unica differenza che posso notare tra i due prodotti sono entrambi prodotti validissimi di là ho appunto la seconda confezione questa è la prima mi è durato tantissimo ne basta poco io utilizzo quattro pompette cioè faccio quattro pusciatine e poi passo nelle lunghezze dei capelli vi ammorbidiscono vi ammorbidisce perché vi ammorbidiscono vi ammorbidisce i capelli li distriga insomma li rende comunque mantiene il ricciolo mantiene il ricciolo e è utilissimo quando una volta lavati i capelli lo andate a passare sui capelli ancora bagnati e poi fate la piega o comunque li asciugate col diffusore perché è riccia come me e mantiene appunto il riccio morbido non è come la spuma che li secca e li rigidisce quindi provatelo mi pare che sta sui 5 euro giù di lì comunque meno di 5 euro sicuramente appunto una boccetta da 100 ml e vi durerà tantissimo quindi potete anche benissimo provare a comprarlo e utilizzarlo passiamo ora alla cura del viso e per la cura del viso voglio parlarvi di questo detergente viso biologico della omnia della omnia scusate all'aloe vera questo è per viso e occhi allora mi è piaciuto però non mi è piaciuto l'odore non mi piace l'odore dell'aloe l'ho voluto provare perché era sotto offerta di solito prendo quelli della Garnier però ecco questo non cioè mi è piaciuto come prodotto di per sé non mi è piaciuto l'odore quindi non lo ricomprerò assolutamente ritornerò ai miei amati prodotti per pulire il viso della Garnier mi dispiace ma non non mi è piaciuto assolutamente l'odore e non riesco poi ad utilizzarlo soprattutto perché lo devo utilizzare sul viso quindi mi risulta un po' complicato farmi passare l'odore che non mi piace dell'aloe non ci posso fare niente però il suo lavoro lo fa bisogna ammetterlo che il suo lavoro lo fa altro prodotto per il viso più specificatamente è un contorno occhi borsi e occhiaie colorato in tonalità beige natural è questo qui della Delidea che mi aveva portato l'edizia perché lei non lo utilizzava aveva sbagliato che l'aveva preso colorato invece io l'ho amato è un flaconcino da 10 ml di prodotto che si presenta in questa confezione qui con appunto la pompettina fatta in questo modo che la vedete appunto sporca di prodotto colorato che è appunto questo questo colore qua il prodotto di questo colore qua è il beige natural a me è piaciuto tantissimo soprattutto l'ho utilizzato quest'estate quando praticamente non mi sono truccata il viso perché non mettevo fondotinta non mettevo nulla nel viso se non questo che mi andava appunto a coprire quelle occhiaie minime che d'estate uno può avere se magari ha fatto più tardi la sera eccetera ecco io coprivo praticamente le occhiaie con questo contorno occhi quindi doppio effetto che diciamo io preferisco questi prodotti per il contorno occhi piuttosto che il classico contorno occhi che poi devi andare a mettere il correttore a quel punto non metto il contorno occhi metto direttamente il correttore un contorno occhi colorato a me piace tantissimo come idea soprattutto nella mia routine nella mia morning routine che è sempre molto veloce quindi devo sempre puntare a cose veloci che quagliano e soprattutto prodotti due in uno questo è un prodotto che mi ha molto molto piaciuto e sicuramente se avrò l'occasione lo comprerò perché è veramente valido e mi ha praticamente risolto tantissime mattine dove avevo uno sguardo praticamente affaticato spento me l'ha subito reso molto più molto più vivo diciamo quindi questo se non l'avete ancora provato e lo volete provare provatelo perché è molto molto buono ultimi due prodotti per la cura del viso ma molto di più per lo struccaggio sono questi due uno è promosso e l'altro è bocciato allora il prodotto bocciato sono queste salviette struccanti fior di magnolia sono 25 salviette struccanti all'acqua micellare prese appunto all'eurospin perché fior di magnolia è la marca dell'eurospin ma vi dico stateci alla larga perché non struccano niente e non sono imbevute per niente e questo appunto mi fa tornare ancora all'idea che le salviette struccanti secondo me sono inutili inutili io le ho provate tantissime e vi assicuro che niente strucca meglio di un dischetto infatti l'altro prodotto che invece mi è piaciuto tantissimo e che sicuramente ricomprerò sono questi dischetti della cotoneve allora questi qui erano double face perché avevano una parte diciamo totalmente liscia e rosa con rosa canina qui dice che era questa parte tutta rosa l'altra parte invece era la parte trapuntata che era appunto la parte che utilizzavo io dove mettevo o l'acqua micellare o un latte detergente che sto provando e che mi sta piacendo molto che ho in formato piccolo formato maggio ma che sicuramente comprerò perché mi sta piacendo veramente molto e appunto la parte quella a nido d'ape diciamo quella non liscia quella appunto a nido d'ape era la parte che struccava e mi è piaciuto tantissimo questa tipologia di dischetti sono cuciti benissimo nei bordi che è una cosa per me fondamentale per i dischetti io non compro dischetti che non siano cuciti nei bordi perché mi da assolutamente fastidio vedere e trovarmi l'ovatta nel viso e sugli occhi mentre mi strucco quindi questi qui sicuramente li andrò a ricomprare sono appunto della cotoneve maxim sono quelli proprio i dischettoni grossi e sono 50 non mi ricordo quanto li ho pagati però insomma i dischetti questi qui non è che costano tantissimo quindi se li trovate e li volete provare provateli a me sono piaciuti infatti li devo andare a ricomprare perché li ho finiti passiamo adesso ai prodotti make up ho finito i prodotti make up non ci posso credere nemmeno io perché è una cosa abbastanza rara che io finisca dei prodotti make up però ecco appunto li ho finiti allora parto subito con un prodotto che cioè è un reperto storico ragazzi storico e sto parlando di questa terra di Deborah Milano questa terra ragazzi cioè non c'ha 10 anni di più è praticamente una delle prime terre che io ho acquistato e che ho utilizzato tutte 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 le estati perché io praticamente d'estate più la sera che durante il giorno devo essere sincera la sera andavo praticamente a mettere la terra piuttosto che un fondotinta per esaltare ancora di più la mia abbronzatura e questo praticamente era tutto il mio make up estivo che io mi portavo dietro e questa ha fatto tantissimi viaggi con me d'estate si è vista tutta la calabria penso per 14 anni minimo e devo dire la verità che mi dispiace perché la vorrei ritrovare questa qui è in con la numerazione 04 è la bronze attraction la maxi terra appunto abbronzante e questa la devo assolutamente ricomprare perché io d'estate senza la terra fatta così non campo non campo proprio quindi il mio prodottino oddio è come un figlio per me questa terra è come un figlio poi altro prodotto che ho terminato è questo qui è un eyeliner in penna di Avon ed è il mega effect allora vi devo dire la verità questo eyeliner io l'ho utilizzato due volte e poi praticamente non ha più scritto e questa è stata la cosa che più mi ha roduto perché 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 l'ho comprato cioè l'ho acquistato con i miei soldi dopo due volte che mettevo l'eyeliner era già finito cioè quindi una riga qua e poi dopo un altro giorno una riga qua una riga qua e l'eyeliner era terminato quindi assolutamente state lontani da questi eyeliner soprattutto dagli eyeliner in penna perché io ho notato che sono quelli che finiscono e si seccano prima di tutti gli altri quindi ben vengano gli eyeliner liquidi o ancora meglio gli eyeliner in gel che sono ancora più facili da utilizzare questi assolutamente cioè boicottateli perché cioè non servono a niente a niente altro prodotto che dovete assolutamente boicottare perché cioè non è possibile che questa marca abbia toppato è questo qui è il duo eyeliner e kajal di pupa della linea pupa vamp allora l'eyeliner non ha più la punta non c'è più la punta a un certo punto mentre lo andavo a mettere la punta non me la so più ritrovata non so più che fine abbia fatto e poi stessa cosa di questo diavon dopo due volte che lo utilizzavo non ha più scritto quindi niente manco questo e invece il kajal l'ho utilizzato fino a che ho potuto però ho anche un altro kajal di kiko nella mia pochette dei trucchi che utilizzo tutti i giorni quindi questo qui praticamente non lo terminerò butto direttamente il prodotto perché non è possibile che io tenga un prodotto così grosso nella mia pochette solamente per un pezzettino minimo di kajal cioè l'eyeliner questo qui io avevo puntato tantissimo su questo eyeliner e invece mi ha praticamente deluso deluso quindi assolutamente boicotto boicotto questo duo perché non si può sentire che dopo due volte che lo metto l'eyeliner è già finito ma non esiste non esiste cioè o so io che sto sfigata oppure non ci siamo proprio un po' Grazie a tutti